di solito mi diverto moltissimo come sai a realizzare le miniature del canale tuttavia questa volta da piangere mi veniva proprio per davvero che cosa è successo che microsoft per porre rimedio ad una vulnerabilità su bitlocker che consentiva dei malintenzionati di leggere i dati anche se erano crittografati ha pubblicato una patch che fa molto ma molto peggio e quindi blocca i computer con delle allarmanti schermate blu oltre a non portare a termine l'aggiornamento stesso per fortuna è stata individuata una soluzione e quindi andiamo a vedere come comportarci per evitare il problema e nel caso come risolverlo ti senti pronto inizia non so se ti ricordi una vecchia pubblicità che faceva esattamente così ebbene ogni volta che lo zio bill si fa venire in testa un'idea a questo punto dobbiamo iniziare a pensare che ci sarà da tremare andiamo a vedere esattamente che cosa è successo questa mattina ho letto su punto informatico ma anche su altre riviste di settore questa notizia in realtà anche tanti utenti del canale mi hanno scritto chiedendomi un video chiarificatore in merito perché quello che succede è che su windows 10 e mi raccomando su windows 10 non su windows 11 c'è una patch che crea dei grossi problemi la patch fa parte di un aggiornamento cumulativo questo qui che ti sto mostrando e serve a risolvere una vulnerabilità di bitlocker la vulnerabilità di cui parliamo è questa qui esposta in questo articolo e come ho detto in apertura consente a degli utenti malintenzionati di accedere ai dati dei dischi crittografati con bitlocker pur senza possedere la chiave crittografica microsoft almeno nella sua testa si è prontamente resa conto dell'errore e ha pensato bene di risolverlo con questo aggiornamento purtroppo però a quanto pare l'aggiornamento stesso genera un errore questo qui che indica l'impossibilità di installare la patch tuttavia microsoft non paga del primo errore ne ha commesso anche un secondo che ha mandato in confusione anche gli utenti più smaliziati infatti ha sbagliato il codice di errore che si riferisce ad un errore completamente diverso rispetto a quello della mancanza di spazio successivamente come da consolidata tradizione microsoft sono andati tutti quanti completamente in palla e la soluzione migliore che hanno pensato di esporre al pubblico al momento è stata quella di pubblicare delle istruzioni dettagliate su come ridimensionare la partizione di ripristino di windows in modo tale da consentire l'installazione di questo aggiornamento ed eccola qui la millantata soluzione di microsoft si tratta di una serie di istruzioni che consentono di ridimensionare una partizione in modo tale da consentire l'aggiornamento del cosiddetto win r e tuttavia questa soluzione a mio avviso e come vedremo a breve non solo a mio avviso comporta una serie di potenziali problemi in primo luogo si tratta di operazioni decisamente difficili per chi non ha dimestichezza con questi comandi dos in secondo luogo sono delle operazioni potenzialmente pericolose che potrebbero creare problemi molto peggiori al tuo computer di quelli che non crei questo mancato aggiornamento è come se questo non bastasse in terzo luogo c'è da dire che non è detto che queste operazioni vadano a risolvere il problema e di questo ci informa anche la rivista hardware upgrade che proprio nella fine del suo commento a questo problema aggiunge questo consiglio per il momento il nostro consiglio è quello di non procedere autonomamente con modifiche alle partizioni ed attendere cosa saggissima eventuali fix automatici da parte dell'azienda microsoft non può naturalmente sorvolare su questo problema e dovrà impegnarsi quanto prima a risolverlo autonomamente con un ulteriore fix sempre nella speranza che non crei altri papocchi ma qualora la tua natura un po perversa e un po kamikaze ti faccia venir voglia di cimentarti con questa soluzione microsoft ti mostrerò per grandi linee quelli che sono i passi da fare facendo attenzione perché sulla mia macchina non è per fortuna presente bitlocker e quindi saranno leggermente diversi anche da macchina a macchina ti lascerò comunque nella descrizione del video un link a questo articolo in modo che tu possa come faccio io fare un copia in colla diretto di ogni comando che vedrai la prima cosa che suggerisce di fare microsoft è quella di aprire un prompt dei comandi in modalità amministratore per farlo ci portiamo in basso sulla lente oppure sulla barra di ricerca ci clicchiamo su digitiamo cmd clicchiamo con il pulsante destro del mouse e scegliamo la voce esegui come amministratore accettiamo che vengano apportate modifiche al dispositivo cliccando su sì e nella finestrella che si aprirà andremo ad incollare il primo comando questo qui facciamo un copia e andiamo ad incollarlo premiamo invio sulla tastiera e veniamo informati che lo stato di ambiente di ripristino è abilitato che l'hard disk si trova nella posizione 0 e che la partizione interessata è la partizione 1 cosa ce ne dobbiamo fare di questo 0 e di questo 1 semplicemente ricordarceli perché successivamente ci saranno utili attenzione però perché non è detto che sulla tua macchina siano l'hard disk 0 e la partizione 1 quelle interessate quindi dovrai andare ad estrapolare queste informazioni da questo primo rigo con il comando successivo andremo a disabilitare il reagent quindi lo andiamo a copiare nuovamente incollare e premiamo invio e veniamo informati che l'operazione è riuscita con successo quello che dobbiamo fare successivamente è andare ad aprire disk part che sarebbe stato tra l'altro casualmente l'argomento del video che sarebbe dovuto uscire oggi al posto di questo ma poi te ne parlo quindi andiamo ad incollare il comando disk part lo lanciamo successivamente eseguiamo un list disk lo scrivo io a mano dato che per me è più comodo fare così ma se temi di fare errori è sempre meglio che tu copia e incolli e vediamo che nel mio computer è presente solo il disco 0 quindi non ho l'imbarazzo della scelta e corrisponde comunque a questo disco 0 che vediamo indicato qui in alto andiamo quindi a selezionare sel disk 0 ho sbagliato sel disk 0 ok e abbiamo selezionato il disco 0 a questo punto facciamo un list part per elencare le partizioni presenti nel disco e vediamo che c'è solo la partizione 1 quindi facciamo sel part 1 e abbiamo selezionato la partizione 1 e a questo punto dobbiamo andare a restringerla siccome il comando è lungo questa volta faccio un bel copia incolla ecco fatto lanciamo il comando e attendiamo alcuni secondi che la partizione venga ridimensionata e quindi ristretta alla dimensione voluta a questo punto tuttavia il mio computer si comporta in maniera diversa perché io qui dovrei selezionare una partizione che non è presente sul mio computer quindi in questo caso andrò a simulare la presenza di questa partizione infatti andiamo a rifare l'operazione list part vedrai che adesso è comparsa una partizione 2 della dimensione in questo caso di circa 250 mega e niente ho parlato per due minuti buoni ma non mi era partita la registrazione non me ne ero accorto quindi lo rifaccio quello che dobbiamo fare a questo punto è andare a selezionare la nostra partizione winner e nel mio caso la partizione 2 lo facciamo con il comando cell part 2 diamo l'invio a questo punto microsoft vuole che noi la andiamo a cancellare con questo comando qui lo andiamo a copiare e lo incolliamo all'interno del prompt premiamo invio e la partizione è stata eliminata ce ne accorgiamo facendo un list part nuovamente e vediamo che c'è solamente la partizione 1 la 2 è scomparsa ma non è finito il nostro zio bill non è ancora contento perché vuole che a questo punto noi andiamo a creare una nuova partizione di ripristino per farlo però dobbiamo prima capire se il nostro disco è partizionato gpt o mbr cosa che facciamo eseguendo di nuovo un list disc come indicato qui nel comando lo vado a copiare a questo punto e dobbiamo verificare se c'è o meno come nel mio caso come vedi non c'è un asterisco in corrispondenza del disco se l'asterisco è presente si tratta di un disco gpt se l'asterisco non c'è si tratta di un disco mbr il mio è mbr e quindi seguirò il comando 2 mentre se il tuo disco è invece gpt utilizzerai la stringa nella sezione 1 andiamo quindi a copiare il comando 2 nel mio caso ed incolliamolo all'interno della finestra diamo l'invio ed ecco che abbiamo creato la nostra partizione successivamente dovremo formattare la nostra partizione con quest'altro comando qui facciamo un copia incolla e lo lanciamo ecco fatto la partizione è stata completata per verificare che la partizione sia stata effettivamente creata facciamo un list vol che serve ad elencare i volumi presenti ed ecco la nostra partizione windows re esattamente come la vuole mamma microsoft se dio vuole abbiamo terminato questa noiosissima operazione che possiamo digitare exit per andare a chiudere la finestra finito oltre che un pochino di amaro in bocca questa vicenda ci regala anche due preziosi consigli da condividere o meglio da ribadire perché l'ho detto spesso bitlocker non mi sta simpatico e questo non è un mistero per nessuno come vedi crea diversi problemi al computer e ci sono metodi criptografici più efficienti e altrettanto gratuiti come quelli che abbiamo presentato in altri video del canale che possono essere implementati per proteggere i tuoi dati il secondo consiglio è di evitare tutto quello che ti ho mostrato in questo video molto meglio lo ribadisco aspettare che esca una nuova patch piuttosto che andare a commettere errori inutili che possono compromettere gravemente l'utilizzo del tuo computer e veniamo ai ringraziamenti del giorno che è la parte più piacevole di tutte il primo va a simone pietro rossi per il suo upgrade infatti da sostenitore ha modificato il suo abbonamento in distinto gentiluomo e quindi gli do il benvenuto e allo stesso modo voglio dare il benvenuto a alex bocelli che ha fatto anche lui l'upgrade da sostenitore a distinto gentiluomo mi levo il cappello e non dimentichiamo un ulteriore benvenuto a tommaso antonucci che invece si è abbonato al canale mi devo scusare nuovamente per aver rinviato il video che sarebbe dovuto uscire oggi che conteneva un argomento richiestissimo anche lui che tuttavia uscirà dopo domani mi scuso anche per i ringraziamenti che c'erano e che sono stati procrastinati per ben due volte ma prometto di farmi perdonare e sempre restando in tema di ringraziamenti devo fare l'ultimo piacevolissimo ringraziamento e cioè quello destinato proprio a te che hai guardato questo video fino in fondo mi hai fatto compagnia nel corso di questi noiosissimi stavolta minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima